Adesso ci colleghiamo con Piero Casemiro per le previsioni del tempo. Paraveo, ciao, ci vediamo dopo. Facciamo un collegamento, Piero? Sì, pronto? Buonasera, come tutte le sere, anche questa sera, vi pergiene il nostro bollettino meteorologico per le prossime 24, 36, 48, avanti con i numeri. Ma passiamo subito al sodo. Tempi previsti anche per oggi, domani, dopodomani, per tutto il mese, che verrà nel mese di agosto. Basse tubazioni, alte e basse pressioni tendenti a concatenarci con le alte pressioni anticicloniche, provenienti dalle zone nordiche. Come potete vedere, mari da poco a molto mossi, agitati o calmi. Maree contenenti dal minimo al massimo nelle loro semicerchi fondamentali, delle fondamenti Venete, Liguri, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo benissimo? Anche alle temperature, temperature. Venezia? Niente. Vicenza? Due. Meno cinque, meno quattro, meno due, meno uno. Meno. Più? Ho venti moderati, in lieve aumento. Venti uno, ventidue, ventitré. Allorché non saranno più venti, ma trenta. Siamo ora. Ecco, ecco, come potete vedere, una strana massa anche di chironomidi, ancora vivi. Nelle gonne c'è il mastro dei litorali, acquitrini, qui, qui, qui. Come potete vedere. E piogge sparse, come potete vedere, nebbia, si consiglia anche per una miglior visione, per una maggior, miglior visione della percorribilità, di rivolgersi al proprio oculista di fiducia. Cosa vi posso dire? Affa da partutto. Affa. Affa sol. Affa sol. Ma, fasce di aria calda tipiche, tipiche, delle zone tropiche, a ritmo a lambada. Ora vi proverò a spiegare che, accorzando questa lambada, vedremo chiaramente anche la lambadina. Faremo, dopo avervi chiaramente, credo non ci sia più niente da dire, dopo avervi delucidamente, credo, chiarito la situazione temporale del tempo che stringe, Passo, la parola è TG, TG, TG?